Il Caffè del Mar è aperto da 35 anni, quest'anno è il nostro 35esimo anniversario. Il Caffè del Mar è nato con l'idea di un locale di relax, con musica chill out. Abbiamo migliaia e migliaia di visitanti tutte le settimane che ci vengono a trovare per ammirare il tramonto di Caffè del Mar. È uno dei tramonti più belli del mondo. Adesso stiamo anche facendo feste, ogni venerdì abbiamo Music Home con Marco Carola come pre-party. Vivo qui a Ibiza da sei anni. È un'isola fantastica, vengono persone da tutto il mondo a visitarla. La differenza è che è un'isola dove... scusatemi se parlo in spagnolo. I più grandi locali hanno un sistema di lavoro molto più organizzato di quello che poteva essere 6-7 anni fa. Tutti cercano di dare il massimo, un servizio perfetto e rendere i loro clienti non felici, felicissimi. In Italia siamo tra i migliori a fare questo lavoro. La maggior parte dei posti qui a Ibiza, il management è italiano. Torniresti in Italia a lavorare? No. Super, super.